nei prossimi giorni la società sport e salute una società dello stato presenterà il progetto del nuovo jacovone lo stadio nel quale si inaugureranno i giochi del mediterraneo dell'agosto del 2026 qui a taranto secondo alcune indiscrezioni gli importi che erano stati inizialmente previsti per l'impianto del rione salinella ossia circa 28 milioni di euro non saranno sufficienti per tutti i lavori di ammodernamento che invece quella struttura richiederà grosso modo non si può scendere sotto i 40 42 milioni di euro se si volesse avere un impianto davvero moderno noi ci auguriamo che il commissario ferrarese il sindaco di taranto tutti i soggetti che sono coinvolti in questa operazione comprendano quanto sia importante per la città di taranto avere uno stadio che possa essere utilizzato sfruttato anche dopo l'evento dell'agosto del 2026 lo stadio moderno con non meno di 25 mila spettatori in grado di far compiere quel salto di qualità che la città e la squadra che tra l'altro sta militando nel campionato di lega pro disputando un ottimo torneo quest'anno possano come dire garantirsi anche per gli anni futuri quindi l'operazione è quella di fare dello Iacovone l'infrastruttura simbolo dei prossimi giochi del Mediterraneo sarebbe davvero una bella operazione anche l'immagine per il capologo ionico grazie a tutti grazie a tutti